Anguria, benefici per la salute. Proprietà, usi e controindicazioni. L'anguria, o cocomero, è uno dei frutti più dissetanti, rinfrescanti, e ricchi d'acqua, che rappresenta circa il 95%, e ha un elevato potere saziante. Appena arriva l'estate, non possiamo resistere alla tentazione di comprare un'anguria, e di affondare i nostri denti in un soccoso e croccante pezzo di questo frutto. Oltre ad un sapore delizioso, l'anguria ha proprietà nutritive benefiche per la salute, e il benessere dell'organismo. La polpa dell'anguria contiene vitamine A e C, potassio, fosforo, magnesio. Questo frutto rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle, e dei capelli, aiuta la circolazione, e la solidità delle ossa. Grazie alla presenza di vitamina C e potassio, l'anguria ha un effetto depurativo e disintossicante, rendendola un frutto ideale per contrastare in maniera naturale la ritenzione dei liquidi, il gonfiore alle gambe, e l'ipertensione. L'anguria è ricca di carotenoidi, sostanze in grado di combattere l'azione dei radicali liberi, e quindi l'invecchiamento delle cellule. Questo frutto contiene anche il licopene, un nutriente importante in quanto sarebbe in grado di ridurre il rischio di ammalarsi di diversi tipi di cancro. Inoltre, l'anguria contiene citrullina, un amminoacido che assicura l'equilibrio della pressione, mantiene elastiche le pareti arteriose, e può aiutare a prevenire l'ipertensione e le malattie cardiache. Benefici per la salute. Grazie alle sostanze contenute nell'anguria, questo frutto possiede numerose proprietà benefiche per l'organismo. Combatte l'ipertensione. Grazie alla presenza di potassio e citrullina, che aiutano a bilanciare la pressione sanguigna, l'anguria fa bene al sistema cardiovascolare, in quanto aiuta ad abbassare la pressione alta. Il potassio favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso contrastando la ritenzione idrica, e regola il battito cardiaco. Inoltre, il cocomero è un frutto a basso contenuto di sodio. Favorisce la perdita di peso. L'anguria è un frutto ricchissimo di acqua, e il suo contenuto calorico è bassissimo. Queste caratteristiche ne fanno un prezioso alleato della dieta ipocalorica, o per chi vuole perdere peso. Contrasta la cellulite. L'anguria è molto ricca di acqua, ed è un diuretico molto potente, quindi contrasta la ritenzione idrica favorendo l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Questa proprietà dell'anguria è molto benefica per il sistema circolatorio, in quanto aiuta a ridurre la formazione di cellulite. L'anguria è una fonte di minerali e vitamine importanti. Queste sostanze essenziali per il corpo devono essere reintegrate, specialmente in estate, a causa dell'aumento della sudorazione dovuta al caldo eccessivo. Un paio di buone fette di anguria ti rinfrescherà perfettamente, e ti farà riprendere dalla spossatezza dovuta alla fa estiva. Previene la cistite. L'anguria è un frutto altamente diuretico. Grazie a questa proprietà, può aiutare a disintossicare i reni e la vescica, contrastando la crescita dei batteri, contribuendo così a prevenire la cistite. È antiossidante. L'anguria è ricca di vitamina C, chiamata anche acido ascorbico, contiene anche licopene e beta-carotene. Queste sono sostanze ad azione fortemente antiossidante, che aiutano a prevenire i tumori. Contrastano i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cellulare e la formazione di cellule cancerose. È afrodisiaca. L'anguria contiene la citrullina. Si tratta di un amminoacido che previene l'ipertensione, e protegge l'apparato cardiovascolare, in quanto è in grado di equilibrare la pressione, e di mantenere elastiche le pareti arteriose. Questa sostanza viene utilizzato per la disfunzione erettile, in quanto favorisce la vasodilatazione, stimolando quindi il desiderio sessuale. Ha proprietà antinfiammatorie. L'anguria contiene il licopene, un carotenoide responsabile della colorazione rossa dei vegetali come pomodori, anguria, e frutti rossi. Ha anche un'azione antinfiammatoria, inibisce la formazione delle placche aterosclerotiche, e protegge gli occhi dalle degenerazioni che si ha con l'avanzare dall'età. Grazie a questo antiossidante, il consumo regolare di anguria in estate previene l'insorgenza dei tumori, e favorisce la salute del cuore e delle ossa. Mantiene il benessere della pelle. Grazie all'alto contenuto di betacarotene, consumo regolare di anguria in estate ritarda l'invecchiamento della pelle, e la mantiene elastica. Questo frutto è anche ricco di vitamina C, che assicura la produzione di collagene indispensabile per una pelle sana. Effetti collaterali e controindicazioni. Come abbiamo visto sopra, l'anguria è un alimento molto sano in grado di favorire il benessere del corpo. Tuttavia, ci sono diverse controindicazioni al consumo di questo frutto e alcuni effetti collaterali, di cui dovresti sapere. L'anguria è un frutto non molto digeribile, perché l'eccessiva acqua in essa contenuta, ostacola l'azione digestiva dei succhi gastrici. Il consumo di questo frutto è sconsigliato a persone che soffrono di cattiva digestione. Un consumo eccessivo di anguria è controindicato anche se si soffre di colite, o gastrite. È meglio consumare questo frutto lontano dai pasti. Le persone allergiche all'aspirina, dovrebbero consultare un medico prima di consumare l'anguria, in quanto questo frutto contiene dei salicilati naturali. È un frutto con un alto indice glicemico, quindi il consumo eccessivo di anguria è controindicato in caso di diabete. Grazie per aver guardato questo video. Se il video ti è piaciuto iscriviti al nostro canale, lascia un commento e metti mi piace.